Ciao amici, come state? Quest'anno sono veramente molto contento di festeggiare con voi in musica queste feste, perché la canzone che sentite in sottofondo è il mio singolo natalizio, che ho registrato con Luigi Lopez su Vessi di Carla Vistarini. È una canzone che viene da lontano, perché molti anni fa la registrò Riccardo Fogli. Io vorrei che tutti quanti l'aveste con voi, nelle vostre case, nel vostro cuore, perché è un augurio di serenità, che sembra non avere limiti di tempo. Io vi auguro un Natale felice e pieno di pace, dal vostro Stefano Bersola.